Rappresenta il raggio di sole in questa narrazione appunto molto noir, quindi è la parte sognante del film, è un uomo bellissimo, affascinante, giovane, che appunto rimorchia. E lavora sul battello lungo il lago, quindi con il fascino della divisa, insomma ha il suo perché. Si conoscono, si piacciono, però la storia non focalizza più di tanto su questa storia sul loro innamoramento, eccetera, perché il focus è su altro, quindi noi percepiamo che loro si sono appunto innamorati, che vogliono, che sono andati a vivere insieme, che fanno una vita appunto di coppia e che sono innamorati, però poi appunto succede qualcosa e quindi il film prende tutta un'altra direzione.